Ragazzi stiamo seguendo gli ultimi minuti di Milan-Roma 2-1 per i rosso-neri per ora Ma la Roma spinge, la Roma spinge ha trovato il gol con i Bagnaz all'86esimo Dopo che il Milan comunque aveva meritato il doppio vantaggio La Roma non aveva fatto nulla fino a quel momento, dal 77esimo in poi è scesa in campo E attenzione Matic, Abram, Abram, 2-2, il miracolo di Tataruciano su Matic E poi il gol di Tammi e Abram al 93esimo, è tutto vero, è tutto vero In 13 minuti, 16 minuti la Roma pareggia, la Roma pareggia, la Roma gioca un quarto d'ora e fa due gol Pazzesco! Pazzesco! E ragazzi manca un minuto e mezzo e la Roma ha l'inerzia della partita adesso Pazzesco! Che partita! Che partita! Matic, Tataruciano e Abram su mamma mia Ma tutto solo Matic, e Calulu si perde Tammi, mamma mia, mamma mia Che cuore la Roma! Che cuore la Roma! E Tammi e Abram dovrebbe essere il quarto gol, se non sbaglio, in serie di questa stagione Mette a tacere tutte le critiche, probabilmente deve tornare a segnare con continuità Il gol è tutto buono E attenzione che c'è da recuperare molto tempo perché ancora non si è ripreso a giocare Pazzesco! 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 Tomori! Vediamo un attimo, vediamo un attimo È stato spazzato tutto via da questo gol Milan meritava i tre punti Ma attenzione a questa Roma Che se ne porta via uno importante per ora Occhia del Sharawi! Mamma mia il Sharawi! E qui c'è un fallo Su Pellegrini! Attenzione, è vero che ha centrocampo Ma potrebbe essere una delle ultime opportunità Tomori è incazzato nero Povega fallo inutile Mamma mia, mamma mia Tutti i pazzi a San Siro Tutti i pazzi a San Siro Neanche fosse l'Inter Neanche fosse la pazza Inter È la pazza Roma Lo dovrebbero intitolare così Il nuovo motto Di questa Roma Attenzione Ancora i bagnez Lungo per Ebram Paffallo No Allo laterale Il Milan l'ha buttata Il Milan l'ha buttata via La potevano buttare via solo loro E la Roma Tra Inter e Milan A San Siro Fa quattro punti Pazzesco Il Milan si ferma E viene recuperata dalla Juve Giallo per perdita di tempo No Per Abram Che pressa troppo la ribattuta di Tonali Non fischia più massa Come si chiama l'arbitro Attenzione Tomari Non può arrivare Non può arrivare Foti È lui L'uomo di copertina Che ha messo dentro E ha cambiato la partita Con Matic Pazzesco 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 davvero Sta per Fischiare l'arbitro È finita È finita Pazzesco A San Siro 2 a 2 Della Roma Al novantatresimo 86 e 93 I Bagnet e Ebram Pareggiano Calulu E Pobega Pazzesco Pazzesco Lasciate un like Commentate Iscrivetevi al canale Il video Non partiranno le feed Ma questa È emozione pura Grazie Roma Grazie Milan Per averci Dato questo spettacolo Io vi do Buona serata A tutti Lasciate un like Commentate Iscrivetevi al canale Qui da Dani Nera 0 è tutto Goal in live L'abbiamo preso Incredibile Bella